Uno dei punti più controversi della riforma elettorale in discussione in Commissione è la soglia di sbarramento. Un aspetto contestato duramente dai partiti più piccoli come i Verdi, il cui capogruppo in Consiglio regionale è Walter Caporale, non risparmi abbordate al PD. Noi come Verdi crediamo che sia giusto ridurre le coste della politica, quindi sia giustissimo lavorare per ridurre il numero dei consiglieri, così come dovremmo anche ridurre gli stipendi dei consiglieri che sono troppo alti rispetto alla media nazionale, però da qui a decidere di annullare, far scomparire tutte le piccole forze che rappresentano istanze, esigenze che altrimenti non verrebbero rappresentate, ce ne passa. È molto grave che qualcuno, nello specifico in Abruzzo e il PD, pensi di voler cacciare dal Consiglio regionale i Verdi, rifondazione comunista e comunisti italiani, ma anche forze come indipendenti come ad esempio l'UDC o l'MPA o altre forze. Questa non è democrazia, è dittatura mascherata da sbarramenti che non devono passare e non passeranno in questo Consiglio regionale.